Finalmente è nata! L'annuncio dolcissimo ha commosso il popolo dei social I fan di Uomini e Donne sono increduli. Uomini e Donne è il dating show più amato dai telespettatori italiani La sua messa in onda è avvenuta circa un ventennio fa e da quel momento il pubblico si è letteralmente affezionato ai protagonisti Negli ultimi anni sono soprattutto i cavalieri e le dame del trono over ad aver suscitato l'interesse dei più, anche se una cospicua parte di telespettatori è attentissima alle vicende dei più giovani Il trono classico è fonte di curiosità soprattutto per i giovanissimi I telespettatori si sono profondamente affezionati ad alcuni dei protagonisti del dating show, i quali terminata la loro esperienza a Uomini e Donne sono divenuti dei famosi influencer Infatti godono di un seguito di tutto rispetto e aggiornano costantemente i follower circa la loro quotidianità Uomini e Donne. L'annuncio pubblico della nascita fa impazzire il web. È una bambina Tra i beniamini del pubblico ci sono senza dubbio Brando e Raffaella Si sono conosciuti grazie al talk e tra loro è sbocciato lentamente un sentimento importante I due infatti agli esordi della loro conoscenza hanno discusso, a volte anche pesantemente, ma il feeling e l'attrazione sono stati immediati Hanno dunque sviluppato in modo graduale un sentimento che è divenuto sempre più forte tanto che Brando ha fatto il suo nome alla scelta e hanno abbandonato lo studio insieme Brando e Raffaella e hanno aggiornato i tanti follower sulla loro quotidianità e a poco a poco i consensi nei loro confronti sono aumentati Sono infatti ironici, schietti e sinceri ed interagiscono con il pubblico in modo sereno Proprio in questi giorni sono finiti al centro delle cronache rosa poiché una notizia ha mandato in brodo di giugiole i fan Raffaella Scuotto ha infatti postato una storia Instagram nella quale ha dato un annuncio importantissimo ai suoi fan Ha comunicato una lieta notizia. È nata una bambina, figlia di una sua carissima amica L'evento l'ha commossa, e per l'occasione ha postato una storia che ha fatto incetta di lì che In tantissimi le hanno fatto i complimenti per la sensibilità e per la dolcezza del suo animo Del resto la sua profondità è stata la calamita che ha attratto i telespettatori Il suo successo è frutto delle sue incommensurabili qualità interiori Già nel corso della sua permanenza in studio ha dimostrato di essere intelligente, sensibile e sagace